ben trovati con pronto telenova saluto e ringrazio il dottore di clinica baviera medico chirurgo paolo cecchini ben trovato buongiorno è un piacere vederci oggi oggi più che mai in questa giornata che è la giornata mondiale della vista quindi noi oggi abbiamo deciso di dedicare la puntata di pronto telenova a questo tema che è ovviamente necessario per tutti noi con delle differenze ognuno può avere la propria domanda da fare potete telefonarci ovviamente potete scriverci come sempre rispondiamo alle vostre domande sul tema anche della prevenzione secondo me possiamo iniziare da lì poi ognuno ha il suo problema però che cosa bisogna fare per prevenire problemi disturbi alla vista allora io distinguerei innanzitutto tra adulti e bambini comincerei con i bambini sì dunque i bambini hanno la caratteristica di non sapere cosa possa essere vedere dieci decimi per cui il bambino piccolo non ti può dire guarda mamma papà non vedo per cui è importante fargli fare un esame di screening perché esiste la possibilità che abbia il cosiddetto occhio pigro in termini tecnico si chiama ambliopia quindi un occhio apparentemente sano perfetto che però ha una capacità visiva ridotta questo potrebbe essere a causa di uno strabismo potrebbe essere a causa di un difetto di vista come l'amiopia come l'astigmatismo come l'ipermetropia quindi sono quei bimbi che noi vediamo con gli occhialini e un occhietto di bambino è una bambina bravissima esatto perché perché per recuperare la vista dell'occhio che vede male si può occludere l'occhio sano per poter stimolare l'occhio che vede male e questo è importante farlo entro una determinata età nel senso che il periodo plastico della vista ha il suo massima risposta l'occlusione sino ai sette anni otto anni massimo per cui in un bambino che non lamenta disturbi che non ha evidenti patologie è bene fargli fare una visita oculistica un intorno dei tre anni a tre anni sono già collaborativi a sufficienza per poter interagire vedere i test delle tre dimensioni vedere le figure dell'otto tipo iniziano a parlare quindi esattamente per cui si può si può trovare si può vedere se questi bambini hanno entrambi gli occhi che vedono bene oppure sono appunto affetti da questa forma cosiddette di ambliopia o di occhio pigro che sono appunto suscettibili di buon recupero se trattate appunto entro la giovanissima età entro i sette anni circa di vita ti leggo subito un messaggio mio zio ha una ipovisione che cosa significa grazie dunque per ipovisione si intende una visione tra virgolette diciamo scarsa una vista molto debole quindi un paziente ipovedente di solito vede circa un decimo o sotto un decimo o un ventesimo nei casi più gravi addirittura può solamente essere in grado di contare le dita della mano quindi per ipovisione si intende una visione limitata quindi anche un miope no perché corretto vede bene qui si intende un occhio che sia corretto che non corretto al massimo vede circa un decimo o un ventesimo quindi è irreversibile per lui? dipende se esistono possibilità se uno ipovedente per esempio può una catarata potrebbe operarsi e recuperare se ipovedente per un danno neurologico piuttosto che è nato con un problema nervo ottico la situazione potrebbe essere anche irreversibile potrebbe essere diverso da casa scrivono queste nuove lenti pubblicizzate che rallentano la miopia sono affidabili? dunque esistono in effetti delle lenti ci sono tre aziende che le propongono che si prefigono lo scopo di ridurre la progressione della miopia nei ragazzi effettivamente sembra che funzionino sicuramente non fanno danni per cui merita provarle e ci sono stati dei buoni risultati non cose meravigliose però possono ridurre la progressione quindi sono utili soprattutto nei ragazzini che manifestano già da giovanissimi una miopia abbastanza elevata e che tendono a progredire rapidamente nel corso degli anni quindi mettono praticamente rispetto anni passate mettendo queste lenti a contatto uno vede e blocca? si sono anche lenti da occhiale sono anche lenti su occhiale con delle strategie particolari di sfocamento dell'immagine in periferia che possono limitare la progressione della miopia ah interessante viceversa forse esistono tuttora anche delle lenti di ortocheratologia che schiacciano l'occhio eh l'ho sentito quello sembra una cosa un attimino diversa cioè che le metti di notte e poi di giorno ci vedi le metti tutte le notti quello si chiama ortocheratologia e sono delle lentine a contatto che schiacciano la cornea in maniera da rendere il profilo più piatto durante la notte una volta tolte la cornea rimane schiacciata quindi apparentemente si ha una risoluzione temporanea della miopia e durante la giornata poi la cornea ritorna alla forma originaria e la miopia naturalmente riemerge esattamente come prima non si sa se nel lungo periodo questo schiacciamento e rilassamento schiacciamento e rilassamento faccia poi così bene all'occhio eh infatti però poi magari per i miei piedi limitati per un'occasione particolare si può anche usare non so se lo userei ogni giorno in maniera costante cos'è il campo visivo? il campo visivo devo fare la visita ci scrivono da casa dunque la nostra vista fanno le visite al campo visivo? si si esiste un apparecchio che si chiama appunto campimetro la nostra vista è data dalla visione centrale che è diciamo la zona di retina dove noi riusciamo a percepire la miglior visione quindi i dieci decimi nella migliore delle opportunità e poi c'è tutto il campo visivo che è lo spazio che io percepisco attorno a me che è fondamentale per l'orientamento per camminare per evitare i pericoli e serve soprattutto ad un'assessibilità al movimento quindi io mi accorgo che mi sta arrivando qualcosa da destra o da sinistra grazie alla mia visione periferica e questo si chiama il campo visivo ed esiste una malattia che si chiama glaucoma in cui il campo visivo può essere ridotto sino ad essere tubulare centrale per cui c'è un apparecchio che propone delle luci in varie posizioni la persona deve segnalare tramite un click di un tasto la visione di queste luci periferiche in questa maniera si valuta non solo la vista centrale ma anche la visione periferica che appunto prende il nome di campo visivo ogni quanto dovrei fare una visita dall'oculista? io sono nata dall'ottico e basta dunque l'ottico in Italia è in grado solamente di testare la vista degli adulti e di proporre degli occhiali manca tutto il resto della visita quindi della possibile prevenzione quindi manca la misura della pressione dell'occhio l'ottico è il dottore che c'è all'interno del negozio si diciamo che è un ottico con un diploma di ottico in Italia che non è il dottore che non è medico il dottore oculista che invece ci visita nelle strutture esattamente per cui se fai una visita solo dall'ottico puoi farti fare gli occhiali sostanzialmente ma ti manca tutta la misurazione della pressione la verifica se il tuo occhio è sano che non ci siano infiammazioni che la retina sia sana che non ci sia glaucoma questi sono importanti ogni quanto va fatto esatto da una certa età in poi diciamo dai 40-50 anni è bene farsi fare una visita oculistica diciamo circa ogni anno perché esistono e qui ritorniamo al tema della prevenzione delle patologie che non danno segno di sé per esempio il glaucoma in cui c'è un aumento della tensione della pressione dell'occhio che è totalmente silente quindi nessuno può accorgersi di avere la pressione elevata e questo può nel lungo periodo togliere campo visivo quindi io direi che è utile una visita dal medico oculista assolutamente sì proviamo a prendere anche una telefonata pronto? 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 buongiorno buongiorno vorrei sapere per favore che cos'è la retinite pigmentosa e se esistono nuove terapie per questo diagnosi grazie salve retinite pigmentosa la retinite pigmentosa è una malattia genetica della retina che diciamo comincia in sino alla giovane età a perdere sensibilità alla luce con la formazione di si chiamano spiccole osse sono come dei depositi pigmentati nella periferia della retina i vasi arteriosi si assottigliano e si perde progressivamente il campo visivo fino anche alla cecità e ci sono vari studi che stanno portando avanti i centri di genetica per tentare di modificare il decorso grosse cose al momento purtroppo ancora non ce ne sono grazie mille dottore allora ritorniamo da voi tra poco dopo la pubblicità restate con noi rieccoci in studio allora leggiamo un po' di messaggi le operazioni che correggono miopia e presbiopia con lenti correttive all'interno dell'occhio sono correzioni definitive? si sono delle ottime correzioni cosa che noi facciamo abitualmente in clinica baviera si tratta di prevenire sostanzialmente l'insorgenza della catarata si va a operare e togliere il cristallino e grazie all'impianto di una lente multifocale che ha la capacità di mettere a fuoco sia per lontano sia per la media distanza quindi computer, cruscotto della macchina e un altro fuoco per vicino a circa 40 cm permettono di risolvere il problema sia refrativo dell'ipermetropia sia del problema che hanno le persone adulte e quindi di leggere da vicino quindi correggono anche la presbiopia ed è un trattamento assolutamente definitivo e perdura per tutta la vita poi allora devo essere operato alla cataratta ma iniziale non è prematuro e ce n'è un'altra di domanda molto simile è vero che la cataratta può essere operata già in fase iniziale una volta si diceva che doveva essere matura ora mi hanno proposto già un'operazione dunque è vero che si sta andando verso la via dell'intervento in fase iniziale perché? diciamo che la cataratta va operata essenzialmente quando la persona non è più contenta della sua vista quindi ha difficoltà nelle azioni quotidiane ed è bene non aspettare troppo altrimenti la cataratta diventa ipermatura e diventa più difficile da operare quindi diventa dura, bianca oppure marrone intenso e durante l'intervento si può incorrere in una frequenza maggiore di complicanze intraoperatorie per cui è corretto essere operati sì in fase iniziale chiaramente quando la persona ha delle difficoltà nello svolgere le proprie azioni quotidiane si accorge di veder male e questo è anche un fatto di sicurezza nel senso alla guida per esempio un'ottima visione ti garantisce una sicurezza maggiore per cui esistono delle piccole cataratte anche iniziali che danno un sacco di diffrazione della luce per cui uno sfocamento in determinate situazioni soprattutto la sera quando la pupilla si dilata con i fari delle macchine e i lampioni ecco che questa è un'altra cosa i fari delle macchine sfocati che sono un must anche su instagram di gente che fa vedere come si chiama è una diffrazione della luce all'interno dell'occhio per cui il faro che è puntiforme non viene più messo a fuoco come un punto ma viene diffuso in maniera anomala sulla retina creando dei raggi o degli sfocamenti degli eloni e questo può essere anche un indizio di una cataratta iniziale incipiente grazie telefonata pronto sì buongiorno io sono Fabio di Piacenza buongiorno prego allora io nel 2021 ho fatto un intervento alla cataratta all'occhio sinistro sì è andato tutto bene però dopo due anni vedevo tutte le luci di sera tutte appannate poi ho dovuto fare un secondo intervento perché avevo il cristallino agoropatizzato ok ha paura che le torni? no no infatti mi hanno operato all'ospedale di Maggiore di Cremona sì gli all'occhio mi seguono per la vista per gli occhi allora mi ha detto alla dottore mi ha detto che molte volte succede che quando uno fa la cataratta che dopo qualche anno si opatizza ancora il cristallino ok adesso lo chiediamo al dottore grazie va bene grazie dottor Cecchini è possibile questo? sì quello che le hanno detto è perfettamente corretto nel senso che non può tornare la cataratta perché è stata tolta però quello che rimane è il sacchetto della cataratta quindi sarebbe la capsula del cristallino all'interno della quale viene messa la protesi ossia il cristallino artificiale questa capsula è frequente anche nel 40 per cento dei casi dopo l'intervento si può opacizzare si chiama in termine generico cataratta secondaria oppure opacizzazione della capsula posteriore e trova la sua terapia in un banale veloce trattamento laser che prende il nome di capsulotomia quindi apertura della capsula che si fa una volta nella vita e non occorre il ricovero un trattamento ambulatoriale dura un minutino e risolve il problema e il problema non può ripresentarsi quindi quello che è successo è assolutamente corretto meno male dai allora telefonata pronto pronto buongiorno sono Enzo Tacarpiano buongiorno volevo sapere come prevenire ed eventualmente curare la maculopatia grazie la maculopatia legata all'età è un argomento effettivamente immenso ah è legato all'età quindi la maggior parte delle maculopatie si esiste la maculopatia anche miopica dei miopi elevati però la forma più frequente è la degenerazione maculare legata all'età diciamo che la prevenzione non è facile avviene tramite visito oculistica e alcuni esami sulla retina che possono rilevare gli inizi l'inizio della maculopatia si chiama prende il nome di presenza di drusen che sono come delle perdite di proteine da parte dei vasi che si accumulano sulla retina se questa situazione evolve può evolvere sia una forma trofica che la degenerazione maculare è legata all'età a forma secca sia purtroppo verso la formazione di alcuni neovasi nella forma umida che hanno la caratteristica appunto di essere malformati e di perdere i liquidi e far veder male gonfiare la retina esistono degli integratori si è visto come degli antiossidanti come l'axia santina e altre altre molecole possono ridurre la progressione della maculopatia ma di fatto non c'è ancora un modo per bloccarla vero è che la diagnosi precoce ti aiuta moltissimo perché al momento esistono dei trattamenti si chiamano trattamenti intravitreali con delle molecole che bloccano la formazione di questi neovasi per cui è fondamentale farsi seguire dall'oculista e qualora ci sia l'inizio di una forma umida di maculopatia si può aggredirla per ridurre fino a fermare la progressione tramite delle iniezioni intravitreali di queste nuove molecole allora da vincenzo operato quattro anni fa tutte e due nel giro di un mese ogni tanto vedo i flash operato di cataratta? penso di sì dunque i flash di solito sono dovuti dei lampi quindi prego penso dei lampi sì 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 i flash di solito sono dovuti al fatto che dentro il nostro occhio dietro nella parte posteriore c'è una gelatina che prende il nome di corpo vitreo che è legata alla retina è legata alla retina sia nel nervo ottico che in periferia ruotando gli occhi questa gelatina si muove può tirare un po' sulla retina e la retina risponde con la visione di flash di luce questo è abbastanza normale bene è farsi anche in questo caso controllare dall'oculista perché raramente questo corpo vitreo può tirare così tanto sulla retina da formare un foro o una rottura di retina che è predisponente poi al successivo distacco di retina per cui non è una cosa da allarmarsi ma se succede di vedere dei flash e perdurano per qualche giorno è meglio farsi controllare il fondo dell'occhio ecco la miopia si può correggere la miopia si può assolutamente correggere una volta che si è stabilizzata confermo e ha veramente degli ottimi risultati stabili nel tempo una procedura sicura ci sono varie tecniche esiste la cosetta PRK la LASIC che molti conoscono e sono due procedure standardizzate e assolutamente quindi la miopia si può correggere qualora sia troppo elevata esiste anche la possibilità di correggere tramite l'impianto di lenti intraoculari si chiamano lenti intraoculari fachiche o ICL e di solito sono riservate alle miopie molto elevate ma quindi chi è che sceglie la tecnica? noi o il dottore? il dottore nel senso che la persona deve rispondere a determinati requisiti quindi i trattamenti laser sono trattamenti sulla cornea che è la parte anteriore dell'occhio ma la cornea ha un suo spessore quindi ci sono dei parametri tra miopia e caratteristiche dell'occhio che ti permettono di aggredire la miopia tramite il laser qualora questo non sia possibile quasi sempre al 90% c'è la possibilità di inserire una lente intraoculare che va a correggere il difetto refrattivo allora voi state chiamando sul telefono dei messaggi dovete chiamare lo 02 il numero in rosso altrimenti non vi possono mandare in onda intanto leggiamo i messaggi cosa comportano delle microcisti retrofoveolare negli strati retinici interni cosa non posso provocare e come curarne? allora questo è sicuramente il referto di un anasi che si chiama OCT che è una scansione della retina che va a vedere tutti gli strati retinici alcune volte si formano queste microcisti che spesso sono dovute a una forma di retinopiatia diabetica o in alternativa sono dei casi di infiammazione dopo l'intervento di cataratta quindi a seconda del tipo dell'origine ci possono essere delle terapie antinfiammatorie adatte a farli ridurre fino a farli riassorbire completamente ho capito vedo come una mosca davanti agli occhi pensavo fossero problemi di pressione invece mi hanno detto che è la vista di solito la mosca che naviga davanti all'occhio è il cosiddetto distacco posteriore di vitrio quindi quel gel di cui parlavamo prima che può dare origine ai flash a un certo punto della vita si disidrata diventa più piccola e si stacca dal nervo ottico quando questo succede rimane un annellino che è come una moschetta che ti naviga davanti alla vista ho capito e non è una malattia è un parafisiologico ah infatti pensavo fosse una cosa grave no te la devi tenere devi accettarla fa parte della vita ah ok telefonata pronto buongiorno senta io vorrei parlare col dottore e il dottore la scuola buongiorno senta buongiorno buongiorno senta a me mi ha riscontrato sono andata a fare una vista un foro lamellare vorrei sapere come mi devo comportare cosa devo fare grazie un saluto signora il foro lamellare è una perdita di sostanza da parte della retina centrale dove diciamo nella zona maculare quella responsabile della migliore vista dei 10 decimi questo il foro lamellare non ha non ha motivo di essere trattato deve farsi controllare a volte si ha un'evoluzione positiva altre volte si va verso il foro a tutto spessore che comporta purtroppo può comportare una perdita di vista centrale però per il momento faccio semplicemente i controlli che le hanno prescritto e potrebbe rimanere così non dar problemi ho fastidio mi bruciano gli occhi quando accendo il riscaldamento soprattutto le stufette secondo lei perché grazie vero similmente perché le stufette procurano causano un abbassamento dell'umidità dell'ambiente e quindi in presenza magari di un caso di ipolacrinia quindi un occhio secco l'occhio secco si manifesta prima per l'evaporazione delle lacrime quindi dovrebbe stare attento a valutare l'umidità ambientale eventualmente quello che può fare è mettere delle lacrime artificiali senz'altro degli omettanti lei consiglia d'inverno gli occhiali da sole a me proprio danno fastidio a me proprio danno fastidio diciamo di sì nel senso che estate e inverno il sole può causare danni a prescindere e quindi se c'è un sole intenso sicuramente non cambia nulla fra estate e inverno e gli occhi vanno protetti magari con le lenti più chiare sì esattamente ci sono vari livelli di oscuramento per cui sì vanno consigliati come d'estate allora io adesso prima vi ho fatto anzi adesso inizio puntata ormai passata la puntata vi ho aperto il ministero della salute dove oggi parlano della giornata mondiale della vista quindi dicono l'istinto ci porta a proteggere gli occhi cioè di fare così quando per esempio c'è il sole la prevenzione però ci aiuta a farlo quindi prevenire è meglio che curare effettivamente sì un consiglio proprio veloce per i nostri amici di fare le visite sì assolutamente fare delle visite periodiche perché ci sono delle patologie che si possono riscontrare solo attraverso la visita dal medico curista grazie al dottor Paolo Cecchini medico chirurgo di clinica Baviera grazie a voi è stato un piacere ovviamente voi mandateci le vostre domande poi magari rispenderemo anche nelle prossime puntate intanto ci vediamo dopo la pubblicità per parlare di calcio tra poco grazie a tutti